Sono risorse straordinarie che stanno all'interno del Masterplan e che oggi entrano nella contabilità pubblica degli enti incaricati di appaltare. Sono circa 21 milioni di euro per Passo Lanciano, risorse attese da 25 anni, da 30 anni. Noi abbiamo assegnato queste risorse alla bravissima Arap affinché appalterà velocemente, dopo l'idonea progettazione già curata. Così come gli altri interventi riguardanti tutti i comuni per i beni culturali, da Civitella del Tronto, 4 milioni di euro, alla Casa di Silone a Pescina, al Palazzo a Tagliacozzo, al Parco Didattico della Vino, tematizzato giustamente anche da coloro i quali hanno per compito costituzionale attività di accertamento. Tutta questa attività finanziante porterà cantieri e poi porterà opere pubbliche idonee per rendere più attrattivo e funzionante l'Abruzzo. Con oggi non c'è più scusa, gli enti pubblici incaricati devono procedere alle gare d'appalto. Abbiamo anche fatto qualche mese fa un incontro con la Corte dei Conti e con la Ragioneria Generale dello Stato per spiegare che con una delibera cipe si può partire con le gare d'appalto. Ma oggi abbiamo firmato gli atti di concessione finanziaria. Praticamente nelle ragionerie comunali, provinciali e di Arap si conferisce l'idonea titolarità finanziaria. A questo punto possono contrarre e possono finalmente dare vita a quelle attività maestose per quanto mi riguarda che sono i cantieri.